Ciao, noi siamo di Xilema, io sono Alessandro e suono il basso. Io sono Margherita e suono la batteria. Io sono Francesco, canto e suono la chitarra. Ci siamo formati quasi due anni fa. Tipo, non ci ricordiamo in realtà, perché siamo tre persone una più stupida dell'altra. E il genere che facciamo è sempre molto difficile da spiegare, perché ogni canzone è diversa dall'altra e praticamente di un altro genere. Quindi ci sono pezzi funk, ci sono pezzi punk rock, ci sono pezzi più cattivi, più sul grunge. Abbiamo due demo. Siamo in attesa di altre tre, che abbiamo registrato la settimana scorsa, di recente comunque. E le faremo uscire molto presto. È un lavoro leggermente più furbo rispetto a quello precedente, più maturo, più professionale. E le faremo uscire molto più furbo rispetto a quello precedente. Grazie a tutti